Oggi penso che sia il giorno più sbagliato che potessi scegliere per fare un giro in moto, non solo perché sono insieme a Matthew E come sapete quando c'è Matthew accadono cose Sì ma non ti puoi lanciare in mezzo alla strada Ma anche perché il tempo è una bellissima Il giro di oggi è completamente nel chill Allora la situazione è stata divertente perché ieri mi ha scritto Matthew e mi ha detto Però andiamo a fare un girettino dalle tue parti E gli ho detto tipo ma tu sei di Genova, ci metti tipo tre ore a venire qua E abbiamo detto sì ma non avevo tanto voglia di fare un giro a Genova E quindi eccoci qua Li conoscevi? Oddio mia sorella La cosa in assoluto più divertente di tutte è che come vedete stiamo letteralmente andando nella zona brutta Insieme a Matthew c'è Edoardo con il suo Duke Ma zio ma non si... no zio dai Non lo so sapete Oggi abbiamo optato per un giro che non vi ho fatto vedere spesso sul canale Tra l'altro raga faccio una fatica boia a parlare ve lo giuro Perché mi hanno tolto il terzo dentro del giudizio Ne manca solo uno E mi toliranno pure quello Ovviamente ragazzi non ve l'ho presentata Ma la protagonista di questo video è il mio KTM 690 Occhio ai semafori qua nel primo pezzo Eh ci sono dei... boh non me lo ricordo Ma nel caso occhio E' dubbio noi lasciamo andare avanti E tra l'altro raga a proposito di moto Io me l'ho avuto lì Potrei aver comprato la moto nuova Cioè anzi l'ho comprata Guarda come si diverte Metti un corrisvoltino La gamba ai fuori Pazzesco Incredibile questa ragazza Oh queste qua sono le prime curve vere che sto facendo dell'anno insieme a qualcuno Era da tantissimo che non facevo un motovlog Soprattutto così nel chill insieme a voi Signora Signora I limoni Arrivo amici Ma aspettatemi Ci sono ci sono Porca Ma devo essere onesto raga Mi mancava un botto la sensazione così di adrenalina Del casino delle moto di tutti Un po' meno il traffico Un po' meno i ciclisti Però le curvettine Quelle si Aspetta che Trolliamo un po' Matthew Oh bro finito Si è finito Edo Lui ride Ma non sa che il giro è davvero finito Oh oh Faccio finta Faccio finta che sia successo qualcosa No No bro Cosa è successo? Ho grippato Ho grippato zio Zio mi ha fatto un rumore bruttissimo Ho tirato la frizione Porca Solo te potresti grippare un po' Aspetta un attimo Io ho ing***ato la moto E lui ha ing***ato la mia E mi ha preso anche la GoPro La bomba te devo dire Che c***o si guida sta roba Mi sto letteralmente distruggendo i testicoli Mi si è girato un testicolo Sai che forse siamo fortunati e non la becchiamo là? No Goccia in faccia Porca p***a No raga No dai È grandine questa roba Ci stanno bombardando Porca p***a 800 posti di blocco Tra dei chiuse Gente che manifestava Cioè ve lo giuro che non ho mai visto Bergamo così Quindi oltre al tempo meteorologico Questa giornata è assolutamente sfigata Noi siamo in ritardo di tipo un'ora e mezza sulla tabella di marcia Perché Mettivo a causa di questi blocchi si è perso Comunque il pallonava Bergamasco raga è pazzesco sempre Tra l'altro Vieni sono uscito Faceva un caldo incredibile Quindi stamattina mi son detto Vabbè è easy Praticamente non mi metto neanche la felpa Spoiler Oggi pomeriggio offrirò il caffè a Matthew e a Edo Solo che non lo farò la macchinetta Ma come stanno diventando le strade qua raga Cioè stanno vogliando andare a fare enduro Guarda che roba Papà raga ma come fa ad essere legale una storia del genere Vabbè è pazzesco Stiamo salendo completamente contro vento raga Non penso che lo sentiate dal microfono perché ho il filtro apposta E vi giuro che mi sta frenando un botto Marron che sound Questo si che lo avete sentito Dai che roma dai Un lungo di qua un lungo di là Guarda qualche metti fa lungo Guarda che fa lungo Chissà un strano che ha il Duke Scoppietta un botto incambiata ma ha un suono molto alto Proprio acuto dico Marron che bel tempo ragazzi Allora facciamo così Per farmi perdonare Se sali con quella lì Offro il panino a tutti Dai bro Ma spacco tutto Andiamo a vedere Ora tu dimmi io esattamente con la mia sportiva Arriba qua Io qua cosa dovrei fare Guarda che un attimo di gas Però arrivi Arrivi qua Poi scendi da lì Vabbè mi spiace Mi offrirai sul panino Io qua neanche a piedi riesco a scendere Sai cosa serve Sarà ripetitore di che cosa Ti faccio un esempio Domani cosa succede Il mio video esce sabato Che giorno è domani? Ma se il suo video esce sabato cosa succede domani? Ma c'è la Formula 1 E quindi come si guarda la Formula 1 risparmiando un botto Utilizzando Nord WPM Scherzi a parte laga Per davvero Domani ricomincia la Formula 1 Non vedo la rivedere la gara Scaricando Nord WPM tramite il link che trovate qui sotto nella descrizione Potrete guardare le gare di Formula 1 e MotoGP e tutto il resto Collegandovi direttamente alla RSI Ovvero l'emittante svizzero In svizzera infatti guardare la Formula 1 è totalmente gratuito E se noi proviamo a farlo senza avere Nord WPM attivo Ovviamente il sito ci sgama Utilizzando il servizio andiamo a geolocalizzarci in svizzera Guardiamo la nostra galetta super tranquillamente E soprattutto abbiamo la possibilità di navigare sul web in maniera del tutto più sicura Perché il WPM diventa sostanzialmente un intermediario Tra la vostra rete e la rete dei siti che visitate Quell'antenna ci servirà esattamente per guardare la Formula 1 Quindi mi raccomando ragazzi Se volete guardare anche voi domani la gara Scaricate Nord WPM tramite il link in descrizione Fani nozzo al volo raga Anche perché sta letteralmente iniziando a piovere Sempre fortunatissimo io quando registro i video raga Scelgo veramente le giornate peggiori di sempre Quando sei genovese Ti fai offrire il pranzo E ti rifuogli i grecker dallo zaino Specifica perché sei genovese Sto registrando? Ok Cioè 0019CB329A Giusto? 0019CB329A Giusto? Ma non c'è scritto Sì infatti Allora raga abbiamo preso un freddo Ma un freddo che non ve lo sto neanche a dire Se prima ho fatto la battuta sul caffè Ora ve lo assicuro Comunque visto che ormai in questo video Vi ho già spoilerato un po' di roba Sono veramente curioso di sapere Con un commentino qui sotto Secondo voi che moto ho preso Io raga vi assicuro Che non ci azzeccherete Perché io in fondo in fondo raga Sono un po' un cattivone Quindi io lancio il sassolino Vi faccio credere Una determinata cosa E poi in realtà Le faccio un'altra Sono veramente sicuro Che nessuno di voi Se l'aspetterà Mi stanno seguendo Ho sbagliato strada Sbaglio sempre qua Cavolo Allora facciamo così Vi do un aiutino Aspetta Se vi do l'aiutino Raga capite Cos'è sta torre qua Che gigante Ah proprietà privata Se fossimo in America Sarei già sponge Sai che c'hai buchi No raga Sta ritornando forte Siamo quasi arrivati Ma che gocce Stanno scendendo raga Se il video ti è piaciuto Mi raccomando Ricordati di lasciare un bel mi piace Guardiamo il lato positivo Almeno risparmiato sull'autolavaggio Ricordati di scaricare